buon pomeriggio a tutti cari amici fan e di nuovo buona settimana a tutti adesso parliamo della di calcio maschile a sd città di trani che niente po po di meno ha vinto per 13 a 2 contro la newsport la newsport altamura ieri alle ore 15 e in classifica i nostri cari ragazzi sono al quarto posto in zona playoff a quota 17 punti anche se insomma dietro le altre squadre sono a caccia di punti come lo è anche il trani nella prossima giornata la nostra gara sd città di trani si regherà domenica 16 febbraio ore 15 a mottola per affrontare la real mottola calcio 2019 che occupa rispettivamente il sesto posto a quota 15 punti quindi insomma sarà un po uno scontro diretto allora concludiamo il video ricordando che nell'ultimo match di terza categoria di campionato la sd città di trani ha vinto per 13 a 2 contro la newsport altamura la prossima ciao ciao ciao